Ciao famiglie! Oggi parleremo di cura e manutenzione degli impianti. La fase 2 è iniziata. È il momento di programmare la manutenzione ed eventuali migliorie per il comfort della vostra casa. Un impianto in efficienza aumenta la sicurezza, riduce i consumi e produce un virtuoso risparmio economico. Per riprendere tutte le attività, Comforti Gionato ha pensato da alcuni suggerimenti per garantire la sicurezza degli interventi ed una riapertura completa del settore. Regola fondamentale. Per la vostra sicurezza è importante sempre che vi rivolgiate a un tecnico abilitato ai sensi della legge. Evitate il fai-da-te e persone che si improvvisano nella mansione. Ma cosa fare in tempo di Covid? Se chiedete un intervento a domicilio, informate il tecnico di eventuali persone positive al Covid in quarantena fiduciaria o persone sintomatiche. La sicurezza di tutti passa attraverso il comportamento responsabile di ognuno. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambierà per gli interventi a domicilio. 1. Il tecnico interverrà indossando mascherina, guanti e laddove necessario visiera di protezione facciale, tuta, usa e getta, compresi calzari monouso. 2. Il cliente indosserà la mascherina e avrà cura di pulire e disinfettare la zona interessata dal lavoro e, se possibile, arieggiare il locale di intervento. 3. Evitare qualsiasi contatto diretto tra il cliente e il tecnico. 4. Per le pratiche amministrative, meglio affidarsi a strumenti digitali, anche per il pagamento. Buona sicurezza a tutti!